ciao amici buonasera allora buonasera buongiorno io non lo so quanto guarderete questo video comunque vi voglio far vedere il volantino della lidl perché dato che l'ho preso l'altro giorno e devo sfogliarlo ho detto facciamo che lo guardiamo un pochettino insieme e vediamo quali saranno le offerte della prossima settimana queste sono le offerte che vanno dal 11 12 al 17 12 allora praticamente oggi domenica quasi domenica e quasi domenica e quindi ho detto facciamolo insomma cercherò magari di mettervelo domani sera insomma se riesco così che possiate vedere le cose che usciranno da lunedì e niente allora in prima pagina signori e signori abbiamo i croissant bauli ai 5 cereali si vabbè comunque un euro e 99 ci sono questi qua che io non ho mai provato però mi fanno gola anche se devo dire la verità e proprio a gusto mio personale di solito i cornetti questi qua io li evito perché insomma sono piene di calorie e non hanno il sapore cioè ragazzi se mi devo mangiare il netto me lo devo andare a prendere a al forno ecco quindi sinceramente non li amo tantissimo però insomma secondo me dovrebbero essere anche abbastanza buoni questi qua vediamo un pochettino cosa c'è di altro allora le patatine vediamo se c'è qualcosina che mi può interessare già di qua ci sono tanti prodottini di questi qua felce azzurra 1 euro e 25 questi sono gli ammorbidenti io amo i prodotti felce azzurra amo il profumo e so che di solito tendono ad avere dei profumi abbastanza diciamo resistenti non ho provato però questi prodotti qua quindi se ne avete provati poi sottoscrivete meno perché magari ci faccio il pensierino ci sono i bagno schiuma bionzerno 1 euro e 49 questi qua gliss che io ho provato ho provato questo rosso e se non erro questo viola in offerta 1 euro e 49 praticamente questi qua sono è vero non c'è sono tutto fuorché biologici però secondo me sono ottimi cioè a me piacevano tanto e poi mi piaceva tanto il profumo di questi e poi qui sotto c'è a 9 euro e 99 il cesto natalizio signori e signori se vi può interessare anche se qui non si vede bene eccolo qua il cesto natalizio scusatemi se devo farvele vedere così le cose però purtroppo non dipende da me ma c'ho sto cacchio di treppiedi che c'è le manie di protagonismo e quindi devo per forza metterlo così Passiamo alle cose e di cibarie Lo storione bianco che cacchio è lo storione bianco vabbè comunque è pesce il 2 euro e 99 affumicato quindi per me è proprio a prescindere eliminato perché a me le cose affumicate non piacciono C'è anche il bastardo signore e signori cos'è il formaggio bastardo del grappa Perché bastardo e no sei bastardo perché costi 8 euro e 49 deve essere per forza così Toma al tartufo filetti di acciughe del mar cantabrico e Filetti di tonno ci sono cose molto particolari a questo deve essere buono misto di funghi porcini con speck secondo me questo qua Poi ci sono vabbè queste cose schifettosissime che Il ciocco pandoro che il pandoro al cioccolato E io ringrazio diciamo Chiunque lassù per il fatto che queste cose a me non piacciono e quindi almeno da questo posso stare Tranquilla insomma non mi piacciono i panettoni queste cose qua non Lo so che voi mi direte che sto bestemmiando in questo momento però lingotto che cos'è Lingotto al caffè con nocciole caramellate mamma mia questo secondo me per gli amanti del caffè deve essere una cosa spettacolare a 2 euro e 49 e poi c'è Le sfoglie croccanti con nocciole mamma mia vabbè basta basta Poi ci sono tutta la frutta candita e ricoperta di cioccolato fondente queste devono essere buonissime amarene ovetta arancia e zenzero Vediamo un cuore in tutto ciò tengo pure la mia bella tazza di tisana qui che si sta raffreddando nel frattempo ciao tisana è stato un piacere che ti voglio bene Vabbè altri formaggi Mortadella coppa porchetta ci sono tante cose diciamo da antipasto secondo me appunto le hanno messe a posta per fare nei pranzettini di natale degli antipasti quindi mamma mia sciamme sta perché sono delle cose assurde C'è anche il rispetto questa qua è l'astice ecco l'astice otto euro e 99 Si specialità di formaggio ripieno guardate qua che cosa possono essere queste cose cioè secondo me saranno buonissime ecco il formaggio è una cosa che purtroppo a me piace assai miscele aromatiche guardate così qua mi interessano Vedete a 1 euro e 99 tutti questi gran mix di praticamente aromi game hot spicy Marsala poldri fish What is this? Comunque no sono secondo me sono interessanti queste qua Vediamo un po che altro c'è Eh vabbè ma non posso andare avanti così sempre roba che si mangia mi state facendo morire di 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 fame a me Allora ci sono i tortelloni al nero di seppia questi sono particolari secondo me questi qua Poi risotto carnaroli pizza vabbè pizza con corgonzola gnocchi ripieni al mamma mia gli occhi ripieni al salmone Patatine Patatine gusto tartufo pancia secondo me la settimana prossima l'idola a livello di schifezza stiamo al non plus ultra Eh gelato al gusto di tiramisù Vediamo che cosa mi potrebbe Ah vedete le sfogliette stanno pure Con mandorle caramellate e mirtilli rossi mamma mia E poi vabbè gli amanti del torrone No questo è un nocciolato cioè praticamente tipo torrone no sarà cioccolato proprio alla nocciola Mamma Fichi secchi ricoperti di cioccolato fondente cioè questi sono da morire Vabbè basta Ci sono anche i macarons questi non mancano mai Vabbè c'è anche la macchina che chi vuole vincere la macchina è una giulietta signore e signori Vabbè basta Si aspetta e spera Allora poi abbiamo tutti i tipi di panettoni possibili immaginabili e Abbiamo pure Ancora frutta secca ricoperta al cioccolato Oh che carine queste le gelatine di mila aromatizzate E poi ci sono tutte queste cose dolcetti di pan speziato Queste sono tutte le cose della favorina che sono Diciamo che secondo me in questo periodo ci sono bene o male già tutte queste qua Però hanno veramente un prezzo basso Io infatti ho preso questi qua Da regalare E sinceramente per 99 centesimi secondo me E so che la cioccolata della Lidl alla fine è pure abbastanza buona Quindi Insomma secondo me va bene Io non vedo l'ora di arrivare Cioè camma ma mi fanno solo mangiare ma io non posso mangiare Fatemi arrivare all'offerta quelle là che interessano a me No eh Comunque vabbè che c'è la birra in promozione Vabbè riso Comunque vabbè io ve lo metto così Poi guardate voi un attimino meglio Io vi faccio pure ombra nel frattempo Sono un idiota lo so Allora andiamo avanti Ci sono questi in offerta a 5,99 Che non so se sia tanto sia poco Vediamo un pochettino E la cioccolata calda Sinceramente non lo so Di questa marca Bella Rom Io ho il Mi sembra che sia della stessa marca Il caffè solubile Sinceramente non è che mi piace tantissimo Però insomma Si arangia Ci sono le crocchette per gli amici cani Se vi interessa Vabbè qui la carne Ma questa qua andiamo avanti Perché poi alla fine Vabbè io lo metto così Che magari fate un fermo immagine Se vi dovesse interessare E vedete un po' quei prezzi Però andiamo avanti Ci sono gli schirri in offerta La promozione 3x2 E questa qua è una cosa buona Vediamo se si vede Gli schirri Questi E poi sotto ci sono questi mix Che sono pure buonissimi Mamma mia Questi sono proprio buoni Cosa altro c'è di particolare? Questo qui mi interesserebbe Andarlo a prendere Il contorno grigliato Anche se non l'ho mai provato Di questa marca Però di solito sono comodi Da tenere in casa Vediamo un attimino Ah ecco Siamo arrivati alle offerte Che piacciono a me No perché pulire non mi piace Quindi vabbè Comunque ci sono queste cose Ci sono i copriasse Da stiro Poi il ferro da stiro 49,99 La scopa batteria ricaricabile Questa qua non è male Sono quelle scupe Diciamo per Che aspirano Sì Sì Batteria Ioni di litio Rullo rotante Va bene C'è pure quest'altro tipo qua Vapore 69,99 Ah ecco Questa qua Sono delle cose Che sono utili In questo periodo C'è questo stendino qua Che è quello là Che si mette a muro Che praticamente Voi tirate le cordicelle E lo appendete Cioè lo mettete nel bagno E quindi potete mettere i panni E poi vabbè C'è pure quello là classico Quello che io ho sempre buttato Da qualche parte C'è anche questo qua Però costa un po' tanto 19,99 Questo qua Che si può mettere pure vicino Ai termosifoni E poi ci sono tante cosine Per diciamo Abbigliamento Per le scatole Diciamo per sistemare Questi qua Mi potrebbero far comodo Ed eccoci Arrivati al punto Che io cercavo Allora Devo dire Che escono belle cosine I cardigan Sono carini Questo qua È bellino In particolare Però quello Che mi piace di più A me Sono queste qui Che sono a collo alto E questa felpa qua Nera Che viene 12,99 Questo qua Mi piace tanto C'è anche questo tipo Di gelè Lungo da donna Ma senza maniche Col freddo che fa Vorrei capire Che senso ha Comunque Poi di qui Che cosa c'è I telefoni Diciamo Quelli di casa I cordless Poi Le ciabatte Non le prese multiple Altoparlante Bluetooth Gli orologini Gli orologini costano 6,99 Sono carini Pure se dovete fare Un piccolo pensierino Non sono male Poi cos'altro c'è Il bassone Selfie La pellicola protettiva Capo per ricarica Il mouse ottico Senza fili Ci sono cose un pochettino Più particolari Più tecnologiche E qui Ah vabbè Ci sono stelle filanti Cose del genere Che io puntualmente Con queste cose Quando ero piccola Mi bruciavo E prendevo fuoco Proprio così Interamente Col cuore Prendevo fuoco Io Perché non so perché Come una cretina Lo tenevo Sempre con Non lo sapevo Non lo tenevo In avanti E quindi La stella Quando poi si bruciava Mi bruciava pure a me Prendevo fuoco Dalla testa e i piedi Veditemelo Se anche voi Eravate I netti Quando eravate piccoli A me purtroppo Sta cosa Mi è rimasta Pure nella vecchia Comunque Vabbè Qui ci sono Delle cose stupede Ma veramente stupende Queste sono Di star wars Per i bimbi Per i maschietti E poi ci sono Quelle di frozen Per le femminucce Ma guardate Ste tutine Quanto sono belle Cioè queste qua Sono stupende Poi ci sono i calzini Tutto abbinato Perché giustamente Non si fa nulla Al caso Non si lascia nulla Al caso E poi ci sono Tutte queste cosine Belle Per fare dei pensierini A dei bimbi Giochi educativi Puzzle La sveglia La sveglia I set Diciamo Questi qua Belli Mi piacciono un sacco Queste sono proprio carine Queste cose Ah i set Di piattini Di mini Frozen E cars E poi dietro No mi sa che ho saltato Una pagina Ah ci sono altri Giocattoli Che caro Le voglio io Allora c'è tutto star wars Per i bimbi Quindi tutti i cosini Di star wars Per i maschietti Ecco vediamo Se si vede Ecco qua Così potete vedere Se dovete fare dei pensierini E poi di qua C'è la macchinuccia A 39,99 Oh che belle Ci sono le bambole Di Frozen Elsa e Anna C'è Olaf C'è Minnie E poi vediamo Un pochettino Basta è finita È finita No guardate questi Cioè no raga Guardate C'è praticamente Il pupazzo di neve Che si è Ammoccato Si è cappottato Dentro al vaso Al vaso Perché non ti metti Ecco Cioè bellissimo 4 ore e 99 Questi sono belli Come centrotavola Guardate che carini Anche se sinceramente Sono cose che Secondo me A casa Si potrebbero Fare Quindi Per chi è Diciamo Cartopazzosa Per chi Insomma è creativa Secondo me Sono Cioè sono da prendere Spunto Ecco No questa è carina La renna La renna Che poi è bello Pure per fare un pensiero Una cosa del genere E poi dietro Ci sono queste altre offerte C'è la pizza margherita Di Giuseppe Della taverna di Giuseppe Signore e signori E niente Io vi ringrazio Per aver guardato il video E spero di avervi fatto compagnia Che almeno vi possa essere Un pochino utile E niente Ci vediamo presto Al prossimo video Ciao 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 Ciao